E eccoci di nuovo insieme. C'è un uomo in un comune della provincia di Caserta che la mattina va a lavorare, nonostante nei suoi confronti penda l'accusa di stalking. È il comandante dei vigili urbani e al lavoro ci va indossando il braccialetto elettronico che dovrebbe garantire che non si avvicini ad una donna, una vigilessa. Questa misura l'ha disposta un tribunale in attesa del processo che si dovrà celebrare e nel quale dovrà rispondere delle accuse che gli ha mosso Dalma. Buongiorno. Lei ha denunciato quest'uomo per stalking, ma immagino abbia avuto una relazione. La mia storia con lui è iniziata a seguito del mio trasferimento per lavoro nel comune di Cellole e lui si è reso disponibile ad ospitarmi nella prima fase per permettermi appunto di trovare una collocazione e di organizzare la mia vita lì. Che tipo di relazione era? Inizialmente è iniziata come conoscenza, poi questa simpatia si è evoluta e è diventata una relazione con alti e bassi perché era molto presente. Io avevo capito che non poteva essere l'uomo per me, però trovavo difficoltà nel lasciarlo, nel dirglielo poiché era molto presente lui, ho visto che era molto preso. Lui comandante, lei sottoposta, vi è mai capitato di lavorare insieme? Sì, sì, lui era il mio comandante, era sempre lì presente. E a un certo punto poi che cosa è successo? Ha lasciato il lavoro? E come è arrivata a lasciare il lavoro? Allora, io sono stata richiamata in Umbria da un'altra graduatoria dove stavo aspettando di essere chiamata quindi sono tornata a casa mia e lui non ha accettato questa fine della relazione. Così si autoinvitava, veniva a casa mia e poiché lui era stato comunque gentile nell'ospitarmi, anche io ho fatto lo stesso. però iniziava ad essere anche molto troppo presente, molto possessivo. Scusi, sono emozionata. Tranquilla. Quindi ho iniziato a chiamare tutte le persone a me vicino, le mie colleghe, mio padre, tutte le persone che comunque mi giravano intorno per screditarmi perché appunto questa relazione non sopportava fosse finita e quindi cercava di mettermi in cattiva luce. Però, mi scusi Dalma, lei immagino sia stata chiara a un certo punto fine... Sì, 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 sono stata chiarissima. Sì, sì, ho detto che la storia non poteva più andare, quindi... In buoni rapporti. Sì, sì, ho cercato di mantenerli buoni i rapporti proprio perché, essendo comunque un collega, ho detto è sempre bene tenerli buoni i rapporti. Ma poi in generale, voglio dire, le storie possono finire, uno può rimanerci male o meno, ma fa parte della vita. Certo. E quindi, quando il suo ex comandante ha capito che le sue premure, che la sua insistenza era inutile, cosa ha fatto? Beh, è stato... proprio dopo che io l'ho lasciato, lui ha iniziato a farmi dei regali, a propormi viaggi anche a titolo di amicizia. Per essere il più presente possibile nella mia vita, cercava di fare più cose possibili. E quando ha visto che però non c'era più modo di poter stare insieme, ha iniziato tutta una serie di chiamate, messaggi. Anche durante la notte, anche alla mia collega, insomma, ha iniziato a stalkerizzarmi. E poi è arrivato al punto di bruciarmi l'auto. E' entrato nella mia privacy, è entrato quindi in casa, mi ha rubato tutte le password, perché io le avevo scritte in un foglio vicino al computer. Tutte le password dei social e da lì poi ha contattato tutte le persone vicino che mi chiedevano, anche se semplicemente, di prendere un caffè insieme. E lei come ha reagito a tutto questo? Io quando ho visto la mia... cioè mi hanno chiamato quella mattina dicendomi che la mia auto stava bruciando, io ho subito capito innanzitutto che era lui. Beh, un conto è capire, un conto magari avviare un'indagine. Sì, sì, i carabinieri sono stati bravissimi, non hanno lasciato nulla al caso, infatti li ringrazio tantissimo. E mi hanno detto però che dovevo denunciare perché ho raccontato tutto quello che mi stava succedendo e inizialmente ho denunciato contro ignoti perché non avevo la certezza che fosse lui. E poi con le indagini si è capito che era lui. Quindi è entrato in casa sua. Sì. Si è appropriato delle password. Sì. Poi l'auto bruciata. Sì, quella mattina è stato fermato dalla polizia del Stato vicino a casa mia. Da Caserta in Umbria. Sì. E le celle telefoniche hanno agganciato sotto casa mia, del cellulare. Una telecamera ripresa perché per venire a casa mia c'è una sola telecamera che riprende verso la strada, quella del meccanico. e passa proprio una Mercedes. Un vicino si alza durante la notte e vede dalle tapparelle della finestra delle fiamme, si affaccia e vede un uomo che mi brucia l'auto e poi scappa via con questa Mercedes. Lui ha una Mercedes. A quel punto immagino che la denuncia sia stata inevitabile. Sì. E il magistrato? L'ha ascoltata? Sì. Hanno fatto una... Dalle indagini hanno visto che era anche recidivo. L'ha fatto con la ex moglie. E quindi è scattato subito il divieto di avvicinamento e gli hanno imposto il braccialetto elettronico. Sì. Ha funzionato? Beh, lui comunque ha continuato a farsi sentire anche dopo, nel senso che ho ricevuto richieste d'amicizia su Facebook, comunque ha continuato. Non l'hanno fermato. La cosa singolare è che nonostante tutto quello che ci ha raccontato, lui continui a svolgere la sua attività di comandante dei vigili urbani. Esatto. Addirittura è stato promosso in più settori del comune. Questa è la cosa che mi ha lasciato senza parole. Beh, lei è pubblico ufficiale, immagino che conosca bene le regole. Davanti a una cosa del genere forse c'è qualcosa che non torna. Esatto. La vedo molto spaventata. Sì, no, sono agitata. Eh, vabbè, almeno qui sta tranquilla poi, insomma, ecco. Anche il coraggio che lei ci metta la faccia, e questo aiuta perché quando poi ci sono i riflettori accesi, insomma, chi ha qualche brutta intenzione o cose di questo genere, desiste perché a questo punto, prima era una vicenda che poteva riecheggiare sui giornali, purtroppo non tutti leggono i giornali ed è un errore. Magari lo potevano sapere nel suo distretto, magari lo potevano sapere nel suo, invece, di distretto. In questo momento lo sanno in tutta Italia. E allora, a questo punto, forse le preoccupazioni potrebbero venire anche meno. O no? Io sono comunque sempre preoccupata, perché non tanto quello che può fare lui, ma se manda magari qualcuno. Addirittura. Sì, è la mia preoccupazione. Si è riappropriato della sua vita? Ci sto provando. Ha delle persone vicino che fanno... Ho il mio compagno attuale che mi sta molto vicino, le mie colleghe, che ringrazio tantissimo, anche il mio comandante. Sì. Ha il suo compagno. Allora, nella vita... A turno, belli o brutti, siamo stati lasciati tutti. Esistono tanti amori della vita per quante vite uno vuole vivere. Ma che senso ha continuare a rompere le scatole, a stalkerizzare, a rendere la vita impossibile a una persona. Ma santo c'è... Dalma, io mi auguro, e sono sicuro, che questo suo metterci la faccia oggi possa cambiare definitivamente le cose. Bortolufo, a lei e al suo compagno, e buona vita. Grazie Dalma. La nostra attenzione adesso... Lei immagina sia anche una nostra delle spettatrice, al di là dei vari momenti in cui possa essere di servizio o meno. Adesso la nostra liturgia prevede che noi ci si colleghi con Saxa Rubra, che è la cittadella dell'informazione sulla Flaminia, ad arrivarci sulla Flaminia.